questa infezione che è molto ben controllata dai nostri organi sanitari, la realtà che i bambini non se la prendono e già questo, a parte casi pochissimi e in modo lieve non sono stati, non vengono attaccati, gli adulti che possono essere contagiati, guariscono e quindi è un senso positivo, il grande problema abbiamo per le persone anziane che stanno male, per carità, però da questo invece ne è derivata una situazione di allarmismo fortissimo e anche un po' pesante, ormai la gente non vive più, non partecipa, hanno problemi a incontrarsi, oltre tutto il deficit economico c'è stato un contagio psichico, invece al posto del contagio fisico un contagio psichico che ha portato dei gravi e sta portando dei gravi danni e adesso che la situazione sotto il profilo clinico, medico, come tutti ci spiegano, è molto sotto controllo, è molto gestibile, invece la nostra reazione è stata scomposta, l'ansia è andata alle stelle e ha coinvolto anche le persone, in questo caso di quei bambini che non c'entravano nulla.